GOLAZO Urbano, Urbano le pegò per arriva della barriera, GOLAZO! 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 Vamos a ver quién dispara, se è Dairo Moreno, o quién è? Se è Dairo! GOLAZO! 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 Un insegnamento e andiamo avanti, ma la risposta che abbiamo dato oggi in campo per iniziare il nostro vero obiettivo, che è il campionato ci dà fiducia e niente, il gruppo c'è